ragazzi purtroppo devo darvi una cattiva notizia riguardante the flash infatti a causa di questa pandemia la sesta stagione di the flash ancora in corso si concluderà molto prima con il diciannovesimo episodio anziché con il ventiduesimo episodio e in questo video ragazzi vi vado a spiegare il tutto nei dettagli a sta la vista ragazzi sono sempre io the gamer t800 e oggi ragazzi ci troviamo in un nuovo video informazioni sulla sesta stagione di the flash e lo so ragazzi lo so questa qui proprio non ci voleva è davvero un dispiacere per tutti noi che amiamo la serie tv di the flash ma purtroppo è tutto vero in america sta succedendo davvero il casino per colpa di questa cavolo di pandemia quindi ragazzi purtroppo non ci si può fare nulla in questi casi molte serie sono state bloccate i produttori insomma hanno stoppato le riprese di alcune serie dell'arroverse e anche serie tv che non fanno parte dell'arroverse quindi ragazzi questa cavolo di pandemia sta facendo molti danni in america e guarda caso sta toccando anche noi nel senso che sta toccando le nostre serie preferite dell'arroverse quindi è una cosa che assolutamente ci interessa ovviamente ragazzi in questo caso noi fan non possiamo aprire bocca contro appunto i produttori gli sceneggiatori di the flash perché appunto ragazzi cosa dovevano fare se non bloccare le riprese cioè ragazzi c'è una cavolo di pandemia che è una causa di forza maggiore e di certo non penserebbero mai di registrare con questa situazione a parte che c'è il divieto quindi è logico ragazzi che hanno stoppato tutto se non sbaglio hanno stoppato le riprese di the flash più o meno agli inizi di marzo quindi sono riusciti insomma a registrare a fare le riprese fino all'episodio 19 e ragazzi purtroppo cosa possono fare visto che non possono più registrare altre scene per andare al finale concluderanno la sesta stagione con l'episodio 19 chiamato success is assured ovvero appunto successo assicurato e qui ragazzi voglio soffermarmi su una cosa le prime quattro stagioni di the flash avevano tutte e quattro 23 episodi la quinta stagione ha avuto 22 episodi in totale la sesta stagione avrebbe avuto in teoria 22 episodi ma ragazzi quest'anno siamo davvero sfortunati e appunto avremo un totale di 19 episodi quindi stiamo andando avanti scendendo scendendo andremo a finire che la stagione di flash prossima durerà 10 episodi così ragazzi per dire cioè l'andazzo è quello lì cioè stiamo prendendo una brutta piega qui e quindi prima o poi avremo una stagione di 10 episodi ragazzi ne sono convinto non lo so perché ragazzi stiamo andando davvero scendendo scendendo cioè da 23 22 adesso 19 non so come prendere questa notizia ovviamente sono un po affranto cioè mi sarebbe piaciuto avere altri episodi di the flash e non solo 3 sono pochi episodi ragazzi non ci possiamo fare nulla prima appunto arrivati più o meno a questo periodo ci aspettavano fino alla fine della stagione 6 episodi o 7 episodi dipendeva se la stagione durava 23 episodi o 22 adesso invece ragazzi solamente tre episodi al finale io ragazzi davvero mi voglio augurare che questo finale così improvvisato appunto che ci sarà nel diciannovesimo episodio sia alquanto buono perché non voglio avere insomma fregature nel senso che mi aspetto una certa cosa e poi invece è una merda quindi voglio avere almeno un degno finale per questa stagione già non si sta capendo granché ragazzi troppi nemici troppi meta umani un casino insomma diciamo che questa seconda parte di stagione dopo la crisi è abbastanza imbrogliata tutta aggrovigliata quindi a volte bisogna soffermarsi per capire alcune cose quindi mi devono fare il piacere di fare un degno finale che centri con quello che è successo dopo la crisi io ragazzi davvero me lo auguro adesso ragazzi andiamo a leggere le dichiarazioni del nostro caro grant gustin che ha rilasciato in un'intervista sentiamo cosa ha detto lui allora innanzitutto qui c'è scritto che data l'impossibilità di girare gli ultimi episodi quindi la cosa che vi ho detto io visto che non hanno potuto girare a causa della quarantena della pandemia insomma a causa della malattia sapete quale non posso dire il nome appunto anche lo show di the cw sul velocista scarlatto ha dovuto ripiegare su un finale non preventivato cioè su un finale non calcolato non doveva essere questo qui ragazzi il finale doveva essere nell'episodio 22 normale se non ci fosse stato questo problema diciamo che a causa di questo problema di questa pandemia insomma hanno dovuto ripiegare su un altro episodio finale ovvero l'episodio 19 perché ragazzi avevano registrato fino a quell'episodio quindi oddio ragazzi che cavolo di roba dobbiamo dire anche grazie a questa cosa ragazzi perché se non avessero registrato fino a quell'episodio il finale poteva anche non esserci cioè quando sarebbe finita tutta questa emergenza tutta sta pandemia tutto sto casino ci avrebbero fatto poi vedere il finale magari che ne so a settembre ottobre si vociferava che addirittura flash si doveva fermare come anche altre serie e poi dovevano riprendere con gli ultimi episodi finali verso settembre o in estate insomma il finale doveva essere molto più in là rispetto a maggio come avviene di solito quindi ragazzi diciamo che hanno optato per questa soluzione che mi auguro sarà buona ragazzi cioè non voglio che hanno rovinato il finale a causa di questa cosa avrei preferito aspettare molto di più e vedere un finale fatto meglio perché se acciallano un po' le cose e poi il finale nel 19esimo episodio viene male io mi incazzo perché potevano anche gestire in maniera diversa le cose cioè fermarsi c'è questa causa di forza maggiore non stiamo parlando di patatine di cose così ragazzi cioè stiamo parlando di una cosa seria quindi potevano se volevano fermarsi un attimo e poi continuare a fare le riprese in estate anche se poi tutte le altre stagioni sarebbero uscite in ritardo perché si sarebbe smosso tutto perché se registravano tutti questi episodi diciamo che mancavano fino all'episodio 22 più in là tipo in estate quando invece dovevano registrare già gli episodi della settima stagione tutte le altre stagioni poi si sarebbero allontanate da noi cioè sarebbero andate molto molto più avanti avrebbero tardato un sacco quindi insomma ragazzi mi auguro davvero che questo finale per cui hanno optato sia valido mi auguro solo questo ragazzi poi mi fate sapere la vostra quindi abbiamo capito qual è il problema abbiamo capito che il finale sarà nel 19esimo episodio e ragazzi appunto grant gustin il nostro caro barry allen ha dichiarato a tv line che appunto alla fine di questa stagione ci sarebbe dovuto essere un grande cliffhanger su ton madonna ragazzi madonna che bello quindi ci doveva essere un cliffhanger cioè appunto una scena che poi ci rimandava che ci lasciava in sospeso e ci rimandava alla prossima stagione all'inizio insomma della prossima stagione similmente appunto all'episodio 5 per 22 appunto il finale della quinta stagione dove c'era ton che ci lasciava in sospeso e poi lo avremmo visto nella crisi più o meno similmente poteva essere così ragazzi chissà eppure appunto il cliffhanger lo hanno fatto lo stesso a quanto leggo qui quindi il cliffhanger sarebbe dovuto essere nell'episodio 22 sicuramente però ragazzi appunto non è il cliffhanger che abbiamo avuto dice qui l'episodio 6 per 19 success is assured sarà il nostro finale quindi avremo un cliffhanger diverso da quello pianificato originariamente porca miseria raga quanto odio ste cose sicuramente avranno rovinato tutto cioè già leggendo qui già mi sale il nervoso perché cavolo c'è il mio personaggio preferito c'è ton c'è l'anti flash e qui ragazzi rischiano di rovinare tutto a causa della pandemia cioè nel senso rischiano di rovinare tutto mettendo questo finale acciallato nel diciannovesimo episodio davvero ragazzi io ci tengo a questo finale visto che c'è l'anti flash uno dei personaggi meglio riusciti o forse il personaggio meglio riuscito appunto nella serie tv di the flash quindi mamma mia ragazzi devono stare attenti se no mi incazzo di brutto perché assolutamente ci tengo a ton quindi ci sarebbe stato il cliffhanger nell'episodio 22 proprio come nell'episodio 22 della quinta stagione magari diverso chissà che cosa sarebbe successo ragazzi magari poi faremo le teorie però adesso appunto nell'episodio 19 di già in base alle riprese che hanno fatto faranno appunto questo finale con il cliffhanger che ci rimanderà alla settima stagione che sinceramente a sto punto non so quando la registreranno e non so quando andrà in onda non credo più a ottobre cioè non è sicuro nulla ragazzi a sto punto perché la pandemia sta ancora camminando quindi non è nulla certo e quindi appunto ma il cliffhanger che c'è alla fine dell'episodio 6 per 19 riuscirà a far diventare l'episodio un buon finale e no ragazzi non va bene io ve lo dico quando dicono un buon finale non va bene perché appunto significa che non sono riusciti a fare bene quanto sarebbe riuscito bene nell'episodio 22 che avevano pianificato e no ragazzi e no cioè io capisco tutto ragazzi capisco la malattia capisco la causa di forza maggiore capisco che si sono fermati anche a fare le riprese ma potevano proprio fermarsi e poi registrare quando tutta sta situazione si sarebbe conclusa non ha senso fare una cosa acciallata così cioè se riescono a fare un bel finale non mi lamento più ma ragazzi se davvero sfaldano qui e rompono tutto ciò che avevano costruito per il finale dell'episodio 22 io davvero perdo le staffe mi incazzo ragazzi e poi mi fate sapere anche la vostra quindi anche stavolta ragazzi ci sarà il nostro caro anti flash ci sarà il nostro caro ton nel finale dell'episodio 19 non credo sia uscita ancora la trama l'andremo poi a ovviamente ad analizzare per bene e cercheremo di capire il tutto poi ovviamente vi porterò anche la reaction video al promo l'analisi delle foto ufficiali della trama e andremo appunto a sviscerare questo episodio 19 visto che all'interno ci sarà il nostro caro anti flash quindi ragazzi non so che altro dirvi è una situazione complicata i produttori o comunque gli sceneggiatori potevano comunque scegliere di fermarsi e poi riprendere quando il tutto si sarebbe calmato perché ragazzi pensateci lo avevano già fatto in questi mesi cioè si erano fermati non stavano più pubblicando episodi stavano mandando in onda almeno in america un sacco di repliche proprio per tenere incollati diciamo i fan di flash alla tv perché non c'era non ci potevano dare in pasto nuovi episodi e questo perché lo hanno fatto perché stavano capendo se appunto mandare online gli episodi o meno per capire se potevano appunto poi registrare gli altri e quindi ragazzi che cosa è successo che alla fine hanno aspettato hanno aspettato c'è stata una lunga pausa e poi ragazzi alla fine hanno insomma editato queste registrazioni che avevano fatto in passato magari a febbraio a marzo sicuramente a marzo e quindi diciamo che con tutto il materiale che hanno faranno questo finale io davvero ragazzi non mi stanco di dirlo mi auguro che verrà fuori un bel finale visto che c'è l'anti flash il mio personaggio preferito mi raccomando comunque a farmi sapere anche la vostra opinione quindi ragazzi abbiamo appurato appunto che nel diciannovesimo episodio ci sarà il finale di stagione con un cliffhanger legato a ton quindi appunto spero sarà una cosa davvero mitica e se ragazzi voglio roba mitica effettivamente questa stagione almeno questa seconda parte di stagione non è che mi stia piacendo granché ci sono dei momenti appunto dove l'episodio spacca di brutto e poi si abbassa di brutto quindi non lo so ragazzi questi cavolo di su e giù non vanno bene almeno che ci lasciano con un bel episodio che ricorderemo per tutta l'estate se poi la settima stagione uscirà sempre appunto ad ottobre lo spero quindi spero ci lasceranno il segno insomma con questo finale a questo punto ragazzi volevo anche informarvi riguardo gli ultimi tre episodi appunto dalla stagione 6 di the flash sappiamo che l'episodio 16 so long and good night ovvero così lunga e buonanotte è già uscito il 21 aprile poi è uscito anche da noi lo abbiamo visto e ragazzi rimangono tre episodi l'episodio 17 chiamato liberation ovvero liberazione che uscirà il 28 aprile 2020 poi abbiamo l'episodio 18 che si chiama appunto pay the piper ovvero paga il pifferaio tra l'altro vi ricordo che ho fatto un video a riguardo riguardo l'episodio 18 in cui ci sarà godspeed e anche appunto il pifferaio dalla parte di berry quindi ragazzi vi lascerò la scheda qui in alto e anche il link in descrizione mi raccomando andate a vederlo se non lo avete fatto ovviamente e quindi questo episodio 18 pay the piper uscirà il 5 maggio 2020 e poi ragazzi l'ultimo episodio l'episodio 19 success is assured successo assicurato il 12 maggio 2020 quindi la stagione si conclude senza ulteriori pause spero il 12 maggio 2020 quindi ragazzi comunque si nota che mancano tre episodi al vero finale ovvero al 22esimo episodio purtroppo ragazzi quest'anno siamo stati colpiti da questa disgrazia tutti quanti ovviamente molti paesi l'america è la fonte di queste serie tv quindi era inevitabile che sarebbe stata insomma attaccata e ne avrebbero risentito gli episodi delle nostre serie preferite tra l'altro anche supergirl batwoman legends of tomorrow hanno subito dei ritardi ma non so se effettivamente anche lì i produttori o gli sceneggiatori hanno optato appunto per fare prima il finale rispetto alla all'episodio giusto dove ci doveva essere il finale quindi non saprei ragazzi scopriremo il tutto a tempo debito appena usciranno gli episodi io voglio sperare davvero che in questi ultimi tre episodi ci faranno vedere la roba che ci interessa ci daranno tutte le spiegazioni che non ci saranno buchi di trama perché ragazzi sarebbero insopportabili a sto punto si vedrebbe appunto che gli episodi sarebbero stati acciallati quindi non mi va proprio e voglio vedere un bel finale con ton magari un combattimento tra flash e l'anti flash non dico definitivo ma qualcosa di interessante addirittura in giro ci sono delle teorie che dicono appunto che l'anti flash potrebbe entrare appunto nel corpo di bruce wayne che non si vede da cinque anni praticamente quindi bruce wayne di gotham quindi il nostro caro batman di terra 1 terra prime che non abbiamo mai visto e appunto il nostro caro anti flash senza corpo potrebbe effettivamente entrare appunto nel corpo di bruce wayne e diventare appunto red death ovvero ragazzi un nemico velocista davvero cazzutissimo quindi spero ragazzi spero che le teorie siano giuste ovviamente magari sarà tutto sbagliato perché sono sempre teorie però sarebbe davvero fighissimo se ci lasciano con questo cliffhanger su ton che entra magari magari nel corpo di bruce wayne e diventa red death oppure potrebbero essere semplicemente separate le cose e ton potrebbe ritornare in un nuovo corpo magari nel corpo di barry magari nel corpo di godspeed ci sono un sacco di teorie in giro a questo punto ragazzi credo di avervi detto tutto vi ho spiegato in questo video informazioni il perché appunto la stagione 6 si concluderà con il diciannovesimo episodio anziché con il ventiduesimo episodio a causa di questa pandemia a causa di questa quarantena e ovviamente ragazzi mi auguro davvero come sicuramente anche voi vi augurate che sarà un bellissimo finale almeno degno cioè ragazzi la cosa che mi ha fatto storcere il naso è quella parte in cui nell'intervista barry ha detto cioè grant gustin ha detto che ok non è lo stesso finale cliffhanger che era stato preparato per l'episodio 22 ma comunque è valido è buono è un buon finale quella cosa mi fa storcere il naso come se appunto il finale che ne so dell'episodio 22 sarebbe stato un 10 come voto mentre questo finale appunto sarà un 6 una sufficienza cioè un buon finale non mi va ragazzi sta cosa io spero di rimanere davvero sorpreso da quello che succederà spero che ci facciano davvero il botto il boom con questo finale cliffhanger visto che c'è anche l'anti flash che sappiamo c'ha sempre un asso nella manica c'ha sempre un piano nella sua mente e quindi ragazzi che dire spero davvero che ci sorprendano e che il tutto sia davvero mitico e che non sia banale sempre quello ragazzi il discorso non devono essere banali devono inventarsi qualcosa di incredibile ragazzi quindi questo video informazioni sulla sesta stagione di the flash è giunto al termine spero abbiate apprezzato la mia idea di portare di nuovo dopo tanto appunto un video informazioni effettivamente era da tanto che non lo portavo e mi andava di farlo visto che la notizia di the flash che finisce prima con il diciannovesimo episodio è davvero molto importante e riguarda tutti noi ragazzi che seguiamo la serie quindi visto che tratto questa serie tv era normale che ci dovevo portare un mio pensiero un mio video informazioni riguardo questa imponente notizia ragazzi non accade tutti i giorni che appunto the flash finisce prima del solito quindi vi dovevo portare un mio video informazioni e dovevo dirvi anche la mia e ve l'ho detta ragazzi quindi mi raccomando fatemi sapere assolutamente la vostra qui sotto nei commenti ne parliamo anche poi in live e ragazzi spero davvero che abbiate gradito questo mio video e che sia stato anche un po divertente e quindi niente ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto se volete ragazzi lasciate un like condividete iscrivetevi se non siete iscritti alla prossima ciao ciao ciao